La Pasqua dal punto di vista turistico non è andata molto bene quest'anno, anche insomma un po' a causa del tempo. Vediamo adesso invece il 25 aprile, soprattutto in quelle che sono le aspettative dei commercianti. Allora Mario Longo, che cosa si prefigura per questo secondo step verso la stagione turistica? Allora, il tempo già è migliorato e questa è una cosa positiva. Diciamo che qui ci mette un po' più di allegria, ci fa affrontare meglio. Noi speriamo che sia, non sarà un ponte il 25, però essendo una festività che si può agganciare o accavallare a un ponte, speriamo. Poi la cosa più importante sono gli alberghi, che sono ancora tutti chiusi, cioè la maggior parte sono ancora chiusi, non tutti. I più importanti so che apriranno dal 20 in poi, allora questa è la nostra speranza. Cioè aprendo gli alberghi un attimino più importanti, più prestigiosi, si fa sì che possa venire un po' di gente un po' migliore a livello, diciamo di tasca, mettiamola così. Ecco, quali sono le problematiche intanto che vuoi segnalare per risolvere ancora di più quello che è il trend turistico? Allora, le problematiche qui ce ne sono tante, però io dico sempre, iniziamo con poco oppure con una alla volta. Un piccolo passo, la cosa più importante è una semplice sinergia, collaborazione tra noi e chi ci tutela, chi ci governa.